Salve a tutti, sono Gabriel Oscar Rosati In questo video mi è stato suggerito di spiegare e analizzare un po' quello che in genere realizzo e faccio durante i workshop, masterclass Sarò qua in Italia per alcune settimane, alcuni mesi e quindi ci saranno alcune date dove possiamo incontrarci Primo punto focale dell'argomento, l'argomento è il più delle volte improvvisazione jazz, sound, lettura, stile, interpretazione E tutti questi aspetti della musica afroamericana, della musica nera Da 91 in poi ho avuto modo di vivere, di suonare in centinaia di situazioni, migliaia Tra gospel, blues, R&B, funk, jazz mainstream, jazz classico tradizionale Tra Stati Uniti, Latina America, Europa, Nord Europa e Giappone La domanda più frequente che mi fa sorridere è Perché o come un trombettista dovrebbe poter insegnare o spiegare ad un cantante o a un chitarrista o a un batterista Cosa fare, cosa suonare, perché, dove e cosa praticare Beh, il punto focale è proprio questo Cioè che il jazz e la musica afroamericana hanno una radice e una sostanza ben diversa dalla musica classica E anche dalla musica latinoamericana O dal pop La mentalità e il concetto fondamentale del jazz è unico, è uno solo Ed è un linguaggio Che poi questo linguaggio sia usato su un piano o su un qualsiasi strumento o sulla voce E' semplicemente un trasportare, un trasmettere quello che uno ha capito, quello che ha in mente, quello che ha nella testa Poi diramarlo e trasmetterlo e comunicarlo con lo strumento Che lo strumento poi sia anche la voce Più specificamente nei corsi più delle volte ho notato che bisogna fare un lavoro proprio di base Perché il 90% forse più dei giovani, dei ragazzi, di coloro che vogliono approcciare il jazz Questo 90% ha solo esperienze sia di ascolto che di studio nella musica classica, pop, rock o musica italiana E questo è un grosso handicap Perché l'ascolto è il bacino più importante Noi respiriamo e assorbiamo come delle spugne l'ambiente L'ambiente qui in Italia è questo Cioè le radio, televisioni, jingle, pubblicità, film Trasmettono per lo più la stessa musica e lo stesso genere commerciale da più di 30 anni 40 forse E quindi questo è un primo handicap, è un primo scoglio da superare Quindi l'ascolto e la concezione proprio di qualsiasi strumentista, di qualsiasi vocalist È una concezione sbagliata È come se uno volesse imparare a guidare i go-kart Oppure arrivare alla Formula 1 E non lo so E va in giro con un motorino Non c'è niente, non ha niente a che vedere insomma Quindi questo è il primo aspetto Poi durante i workshop comunque io li imposto sempre in modo molto collaborativo Ossia non sono io a mostrare o a far vedere o a far sentire I miei virtuosismi Se ce ne sono Ma bensì il concetto più importante è quello di ascoltare Di interplay Cioè ascoltare, riferire, correggere Riprovare Connettersi anche con gli altri strumenti Non è un discorso personale La musica afroamericana non ha niente di solistico Questo è un altro errore, un altro misconception Molte persone pensano che Molti ragazzi studiano il jazz E poi alla fine hanno una infarinatura solo dell'improvvisazione Ma il jazz non è solo improvvisazione E un aspetto molto importante della musica afroamericana È il comping, l'accompagnamento Saper accompagnare, saper collaborare Saper cosa suonare quando gli altri stanno facendo un solo Gli altri stanno suonando un tema Cosa succede, cosa fare quando c'è l'assolo di basso Cosa succede quando sta arrivando il bridge Quando si sta per arrivare il finale Tutte tecniche che non sono come nella musica classica Non è scritto niente Non è scritto sulla partitura E sono regole ben precise Sono abitudini, sono concetti che bisogna sapere Compreso lo scat e tante altre tecniche Che rimangono ancora nell'ignoto Molte volte sembra che siano dei miracoli Quelli che riescono, che sanno cosa fare nello scat O come cantare in uno stile o nell'altro Quindi, insomma, voglio invitare Convincere e assicurare i dubbiosi Che quando ci incontriamo per questi corsi Workshop, masterclass, come le vogliamo chiamare La mia attenzione è al 100% sullo studente Su chi vuole imparare, chi vuole ascoltare E sviluppare questi concetti Ed è tutto possibilissimo Non è un miracolo, non è facile Non è un qualcosa che avviene da un giorno all'altro Però l'importante è capire e sapere cosa fare Cosa studiare, cosa cambiare Nella routine di studio, per esempio Molti nei conservatori dove ho insegnato Vengono e hanno una routine di studio Hanno dei libri, dei metodi e degli esercizi Che continuano a ripetere da decenni Da anni Sono pattern, sono esercizi Sono abitudini che non servono a nulla Non è quella la tecnica per approcciare la creatività La originalità La forza che uno deve sviluppare per suonare jazz Se mi hanno pubblicato 16 libri Tra editori americani, tra i più famosi Collins, Mel Bay, Alfred Publishing Distribuiti in Giappone, Europa, Sud America, Latino America Ci sarà un motivo Il motivo che penso è La cosa più importante è l'approccio L'approccio deve essere diretto e onesto Non illudersi e non farsi alibi Leggendo per esempio le improvvisazioni trascritte dagli altri Oppure le improvvisazioni trascritte sui libri Oppure i temi interpretati in modo sbagliato Il jazz quando si suona in una big band O in un gruppo negli Stati Uniti O insomma in gruppi dove ci siano musicisti che sanno il da farsi Appena uno suona quattro note o un fraseggio o un tema Subito si accorgono se la cosa è giusta Oppure non c'è swing Non c'è il fraseo Il swing non è quello giusto E questo è importante Non c'è solo uno swing C'è proprio il fraseggio jazz E' ricco di cambiamenti e di periodi, di epoche Che bisogna conoscere Al di là della tecnica strumentale Ok, quindi spero di vederci presto Un modo o l'altro O di sentirci come già succede spesso attraverso i social Per quando sono qui in Italia O quando non ci sono Poi si organizzerà qualcosa Spero E' ricco di cambiamenti e di periodi E' ricco di cambiamenti e di periodi E' ricco di cambiamenti e di periodi Apero E' ricco di cambiamenti e di periodi Tutti Grazie a tutti.